Ciao a tutti da Tigre, siamo in un nuovo video di Ratchet & Clank l'altezza non conta, oggi è la parte 3 e siamo sul pianeta Kaldon. Allora, andiamo subito a prenderci un bolt di titanio, che è nascosto qua sotto, in questo specie di... non lo so, buco? Chiamiamolo buco? Cazzo, qua abbiamo un sacco di armi buone. Uuu, quanti ricordi, questo qua lo spara... lo spara, lancia fiamme. Mi ricorda tantissimo Ratchet & Clank 1. Uno dei miei preferiti. Andiamo. No, no, io dove stiamo andando? Subito si mette nella nave, voglio scendere! Allora. Va bene, è una cosa. Ok, c'è lo spazio. Dai, andiamo, tuffiamoci in questa nuova avventura. Sarebbe? Cazzo di rivenditore è questo? Ah, questo qua modifica le armi, non mi ricordavo che c'era quello che modificava le armi. Voglio fare una prova, mi si aggancia allo stesso, anche se non ce l'ho equipaggiato? Sì, mi si aggancia allo stesso, vabbè, però abbiamo fatto una prova. Ho finito le munizioni, no problem. Non ce l'abbiamo, ok. Quindi dobbiamo andare in un'altra direzione. Eh, guarda qua. Oh, sembra che c'ho il fiuto. Io questo qua non lo sapevo, l'altro lo sapevo, vi dico la verità, ma questo non lo sapevo proprio. Ok, ma ovviamente cerchiamo di non ingoiarci anche il ghiaccio. Ma i vecchi potenziamenti, no? Che fine hanno fatto, tipo... Avevo pure la modalità jetpack con Glang. È finita, no? È morta, dove cazzo è? Eh, ci mancava solo lui. Si ritocca il vecchio motore, eh? Ma perché, perché? Cosa hai sentito? Cosa ci fai qui? Ti ha mandato il comitato? Spiacenti, signore. Non intendevamo turbarla. Sì, beh, oggigiorno la prudenza non è mai troppa. Prima mi accusano di far uso di nanoroidi, poi di avere stracarburante illegale. O forse la faccia da baro? Ah, no. Niente affatto. A me sembri onestissimo. Ciò, prendi, amico. Facciamo una gara, così vedrete se sono un baro. Se riuscite a battermi ci sarà una sorpresa per voi. Quindi da quello che ho capito per andare avanti dobbiamo per forza vincere la gara. Ok, andiamo. Vediamo un po' come ce la caviamo. Non so veramente come si usa. Ma perché va tutto storto? Ma va tutto storto, va. Ma perché va storto e non va dritto? Ma come va lento qua? Ti ho fottuto. Allora, dov'è la sorpresa che ci hai promesso? Questo è un minimizzatore. Sono difficilissimi da trovare. Prendete, vi regalo anche questi. Sono trappascivolosi per i miei gusti. Prendete, vi inseriscono. Grazie a tutti. Che taglio, signore! Ma perché vai in alto? Perché vai in alto? Chi cazzo te l'ha chiesto? Oh... E abbiamo vinte tutte! Eh, siamo arrivati a 12.000, dai qualcosina! Potenziamo questo? Ho un dubbio... Sì, vedi, c'è un tipo sotto a sinistra, c'è un cerchietto giallo, si vedrà che abbiamo messo dei potenziamenti, credo. O equivale perché è a livello 2, boh, non lo so. Credo che sia per quello. Comunque facciamo un'altra arma a livello 2 e poi vediamo un attimo se cambia qualcosa. Questo non si poteva lo far scoppiare, non mi ricordo. Ah, questo è per aprire le porte, va bene. Questo non funziona. Credo che siamo in una fabbrica di robot, ma qua ci saranno tanti robot. Vandalismo gratuito, abbiamo preso anche un trofeo. Quanti trofei in questo pianeta? Basta costruirlo, robot. credo che già possiamo comprare qualcosa costo 4 costo 6 bello questo punti abilità vabbè poi le vediamo ste cose a munizioni per favore no guarda c'erano gli stivaletti la porca troia quelli rossi che mi servivano ma quando ci vuole per morire no guarda meno male che abbiamo aumentato la vita e basta mi stanno bombardando so fuori un po' un po' un po' finito lato no mi seguo all'aerro il livello allora sono morti dai porca puttana bello che me l'ha protetto salta giù dall'ascensore se il pello si sgancia io non ce la posso fare che cosa oh aspetta stavo bevendo a me sei che sono di un'altra armatura ancora ah ma erano guante allora non erano vabbè teniamoci questo comunque qua ci sono tre bolt di titanio ammunizioni niente andiamoci punto di controllo che zona di merda ho visto cosa fa non si aggrappa è buggato sto gioco ma che cazzo volete questo oh c'ho l'arma invece di mirare guarda che cazzo mi fa la telecamera che gioco del cazzo ma andatevela a mandare a fanculo sto gioco un po' di merda a un po' di merda abbiamo finito? abbiamo finito abbiamo finito abbiamo finito abbiamo trovato il bolt così a casaccio buono e bene perché questa parte è veramente dispersiva sono felice di averlo trovato io devo andare là quindi mi fa seguire la strada che dico io eh ma qua credo che bisogna andare di qua non lo so ma da intuito non lo so ma allora d'altra parte si capisce un cazzo aiuto si capisce un cazzo mi sa che è la strada giusta eh già bastava seguire la logica della direzione voglio ammazzare tutti qui si capisce un cazzo qui si capisce un cazzo Grazie a tutti. Compra anche questo e buonanotte. Andiamo. Ehi! E tu dove cazzo sei uscito, ma? Allora, so che c'è una sfida nel quale consiste di ucciderlo solo con la chiave. Mo. Siamo sicuri che sia così facile? Come fa a prendermi? Come fa a prendermi? Lui viene, fa l'animazione che picchia e lanciata la chiave. Emo non avevo comprato le munizioni dato che qua c'è un'avvalanca. C'è un'avvalanca. Emo. Oh, dimmi. Ok. 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 Grazie a tutti. Abbiamo fatto anche il trofeo uccidendolo solo con la chiave. Vediamo un po'? E teniamola così, più bella questa verde. Tasto Start e seleziona il menu. Wow! Grazie ragazzi! Siete dei veri eroi! Non mi sono ancora presentata. Il mio nome è Luna. Piacere, Luna. Ma ora andiamocene prima che arrivino i cattivi. Ma non sono ancora riuscita a raccontare a nessuno le vostre imprese eroiche. Eh, vuol dire nessuno, giusto? Re, c'è, tu usa un po' di delicatezza. No, voglio dire nessuno. I miei amici saranno sorpresi di sapere come è stato semplice immortalare due fantastici supereroi. Stai andando bene, Luna. Ora prova con... se scia solo se c'è il sole. Ma... Sì! Stavo cercando di aiutare. Mi avete aiutato entrambi? Ricordi le telecamere che vi seguivano. Vi hanno ripreso ad ogni passo. E adesso abbiamo tutte le informazioni che ci servono. Sì? Sì, li abbiamo presi. È stata una passeggiata. Dove mi trovo? Devi aver subito danni critici, soldato. Ti trovi sul pianeta Metalis, dove è in corso la terza guerra robotica. Metalis? Ricordo solo che stavo parlando con Luna. Dopodiché... Uh, ti è andata bene. Ti conviene darti una mossa, soldato, o farai la mia fine? Oh! Io, io si carm lobbio la mia fine? examine. Cada l'idea. Ti vi trsk多 di! Eeeh, asci mi a ci mangiare. Siamo nei guai, dobbiamo salvare Ratchet. Oddio mio. Ah, qua ci sono altre sfide. Che poi facciamo, dai. Questa è l'arena in cui possiamo combattere. Penso che ci sia anche le sfide con Ratchet, le solite arene di combattimento in cui si vincono i premi, le cose. Ci sono pure i boss a ogni arena. Credo che è sempre la solita cosa. E poi questo qua è un altro pianeta, quindi, fatemi capire. Si trasporta Clank gigante. Scusa, come funziona qua? Ah, se ci trasformiamo in Clank, ma andiamo avanti, perché raggiungiamo con Clank gigante quel pianeta là, dove c'è Ratchet prigioniero. Vabbè, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Tiger.